Ben trovati da TG della mobilità, venerdì 7 luglio sciopero di 24 ore del trasporto pubblico. A Roma la protesta interesserà sia ATAC che Roma TPL, possibili disagi anche sui collegamenti Cotral. Le corse saranno assicurate solo da inizio del servizio diurno e sino alle 8 e 30 e poi dalle 17 alle 20. Nella notte tra giovedì e venerdì non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne. Metromare oggi dalle 5 e un quarto alle 9 del mattino il servizio è sospeso e sostituito con bus in partenza dalle stazioni Eur Magliana e Cristoforo Colombo. Gli orari di partenza dei bus sostitutivi coincideranno con quelli dei treni. Il servizio della Metrobissera comunque attivo tra Porta San Paolo e Eur Magliana e tutto dal TG della Mobilità.